Perché è l'atteggiamento che fa la differenza, non i moduli, le posizioni in campo. Quindi l'approccio che abbiamo avuto, anche la capacità di soffrire alla fine, perché comunque abbiamo rispettato una squadra che sta facendo benissimo, che ha fiducia. Siamo riusciti a difendere la porta con quel sentimento che chiedavamo da un po' di tempo e sono molto contento della prestazione e del risultato. Perché tutti i ragazzi, anche quelli che sono entrati dopo, hanno dato il contributo e Baghi era un po' che non giocava, ha fatto una grandissima partita. Saporetti è entrato a freddo e ha fatto una grande partita. Quindi questo è il concetto di essere squadra. Quando so che c'è il mio compagno, che non ci sono io, c'è lui. Questa è tanta roba. Infatti dobbiamo lavorare su questa cosa qua. La cosa fondamentale è il concetto che deve passare a tutti, che questa partita non risolve niente. Siamo ancora una squadra che ha tanti problemi, dobbiamo migliorare tanto e dobbiamo lavorare. Fiducia che crede in quello che fa e quindi questa vittoria vale tanto. Ci siamo un po' ripresi i punti che abbiamo lasciato all'andata. Anche all'andata abbiamo lasciato qualche punto per strada. E quindi sono contento di come siamo ripartiti, dell'approccio che abbiamo avuto. E quindi sono veramente soddisfatto. Sì, è una roba che penso da inizio dell'anno, che loro si possono esprimere meglio in questo modulo qui. Però comunque c'erano le esigenze di squadra, gli equilibri di squadra che dobbiamo ancora trovarli. Perché, ti ripeto, una partita non fa testo. Però oggi abbiamo avuto quell'equilibrio lì. Loro sono stati bravi ad agire in quegli interspazi che si creano. E quindi quando giochi con gente un po' più di qualità si riesce anche a essere più cattivi anche in zona goal. Io dico il coraggio di squadra, perché alla fine in campo vanno sempre loro, con la loro mentalità, con la loro voglia di fare le cose. Però vedo che anche la squadra in allenamento, gli piace fare questo modulo, questa cosa, l'essere un pochino più offensivi. Dobbiamo ancora un attimino capire qualche equilibrio, qualche scalata meglio, però penso che sia l'inizio di un percorso. Manuel ha avuto un risentimento muscolare, sento un po' a tirare il flessore nella gamba. Vediamo un attimo, lo valutiamo nei prossimi giorni. Speriamo che non sia niente di grave. No, no, assolutamente. Devo ringraziare il mister che mi ha dato la fiducia e spero di avergliela ripagata con questo goal. Il goal sicuramente per me è stato importantissimo, il mio primo goal tra professionisti, quindi è una grande soddisfazione, ma è ancora più importante per la squadra, perché comunque volevamo dare un'impronta chiara, riprendere il campionato meglio di come l'avevano lasciato, dare una risposta alla classifica, smuoverla, ma soprattutto testare il nostro valore con queste vittorie. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo finito il campionato sicuramente sotto le aspettative che ci eravamo fatti, dovevamo farci un esame di coscienza e questi 15 giorni sono serviti a questo. E il campo ha dimostrato che comunque adesso ci siamo, siamo pronti e vogliamo essere un po' più protagonisti nel girone di ritorno, assolutamente. Assolutamente. È una cosa che non ci doveva essere, sicuramente per coronare una prestazione positiva da parte di tutta la squadra. Sarebbe stato bello, più che segnare, quasi fare clean sheet, quindi purtroppo non è stato possibile. dalla prossima partita bisogna lavorare ancora di più nei dettagli particolari come il rigore e in altri piccoli errori.